50.000 presenze in quattro giornate per la domenica favorita. Ieri l'ultima tappa della rassegna con il parco chiuso al traffico e migliaia di famiglie sportivi che hanno partecipato a un centinaio di attività tra Villa Niscemi, Palazzina Cinese, Scuderie Reali, Museo P3 e Campo Stacoli. A scandire il ritmo della quarta domenica è stata la musica, prima con il concerto itinerante del sesto reggimento dei bersaglieri, poi con la Mercing Band Teatro Massimo Kids Orchestra e con il Conservatorio Scarlatti, infine con la band palermitana Hard Lemons. I più piccoli hanno visitato il villaggio di Pompieropoli dei Vigili del Fuoco e hanno partecipato a Palermi Rosa la passeggiata per la sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne. All'interno del parco si sono alternate anche altre attività come gli scacchi, un open day sulla guida sicura in bicicletta, le attività ai laboratori per i bambini, le visite del parco con il Fai e i Rangers, mentre l'ASPA ha effettuato gratuitamente 600 prestazioni tra screening oncologici, vaccinazioni e microcippatura dei cani per la prevenzione del randaggismo.